Il traiettore ad uscire rispetto ai pari della porta difesa a Gigi Buffon, a parte il traversore in mezzo, salta di molti più in alto di tutti con Zali Wayne che allontana e spazza i propri 16 metri, in seguida pallone Davis dalla corsia di sinistra, la potrebbe nuovamente mettere in mezzo, c'è l'opposizione di Wayne, c'è un cross in mezzo, c'è il colpo di testa di Chedira, c'è il pallone sul fondo, c'è nuovamente il tiro dalla bandilina in favore della formazione inglese, va il Coccolamela ad occuparsene da sinistra con l'interno del piede sinistro e la traiettoria, anche questo ad uscire rispetto ai pari della porta difesa a Gigi Buffon che continua a dare istruzione ai propri compagni di squadra di Leparto c'è Sonna vicinissima alla linea di porta, viene inseguito da Lichtenner, parte il traversore verso il secondo palo, salta Chedira, allontana pallone che si alza a campanile, lo allontana con i pugni Buffon e lo spazza via, spolverandolo con la testa a palo di Bala, mentre la sfera adesso galleggia sul settore di sinistra della campo dall'attacco della Tottenham con Eric Lamela che lo porti sui piedi di Eriksen, è provato a attaccare il limite dell'area di rigore, mette il pallone in mezzo, allontana Barzagli, recupera Sonna la palla sul sinistro, il tiro! Pallone che sfila verso il palo destro Di Buffon sulle fonde, poi Buffon che si arrabbia moltissimo con i suoi compagni di squadra, dice dovete andare incontro, esce Esce, vediamo se Higuain, Higuain forse esce, chiedo scusa a Fulvio